Non si può più telefonare, preferisco sentire la radio, almeno parla da sola senza parlarci insieme, va. Notiziario della Valtrompio, nel pomeriggio di oggi, a fondo, in volta, saranno state circa le 13.27, uno sconosciuto si è buttato in uno strapiombo di 750 metri, non si conoscono le cause del decesso, volontari stanno cercando il portafoglio, speriamo che lo trovino, eh. Nel pomeriggio di oggi, a Morso, in Val Morbida, è stata inaugurata la fiera dell'animale velenoso, la popolazione è scongiurata di chiudersi in casa, non mi funziona la seratura, spara la porta con un armadio, ho l'armadio, raggiate, grazie, ieri notte uno spotorno ha baciato una persona, 40 morti, in Val Scevola è stato ritrovato un guanto, si cerca lo sfidato, è stato ritrovato, adesso basta perché le altre notizie se le vuoi, telefonimi a casa o non hai fasti, capito? Sentito, finito, grazie. Passero solitario la campagna cantando vai finché non muore il giorno, eh? Sai tu dirmi dove è il passico solitario e dove vai a cantare lui, eh? Che fai? Eh, mi, mi, mi ero intranquillizzato, mi, mi... Dove è il passico solitario? Eh, guardi, eh, precisamente, io, io so che, eh, dunque, praticamente, guardi, allora, Primo! Primo? I passeri, allora, i passeri, eh, vengono avanti e indietro, non si, non si sa questo che dove vanno, perché loro partono da qui e vanno in giro, guardi, non ti danno più... Ma scusi un po', lei si chiama Primo, hai detto? Sì, io Primo, no, io mi chiamo Doppio, poi mio fratello si chiama, il Primo si chiama Primpio, Primpio? Il secondo Sempio, poi vengo io che sono Doppio, poi c'è il quarto che si chiama Quampio, Quampio e Sempio. Ha un altro Sempio ancora? Sì, due Sempio, insomma, Sempio secondo e Sempio anche il sesto, ah, capito, due Sempio nella famiglia, sì, poi c'è Simio, che questo qui non è molto bello, come... Poi c'è Omnio, Omnio, Neon e Tempio. Tempio? Che il più segreto di tutti, una brava persona ci vogliono bene tutti come un vitello. Ah, capito, senti un po', allora, se dimmi dov'è questa pasta, dov'è cantare Passero? Guardi, io, guardi, praticamente, io insomma, insomma, e chi non si parte, no? Perché qua, parto di quei pasta, di quello lo so sensato, perché parto di qua e vanno giù, ah, vanno giù, eh? Vanno giù? Ah, qua siamo su 1.3, eh? Va che noi qui, siamo su 1.3, qui, eh? Qui 1.3, eh? E dopo di qua vanno giù e si sparano giù nella valle, come... Ma loro cantano davvero, cantano molto? Sì, loro cantano, vanno in giro, non tornano più, adesso non si sa più, o giorno d'oggi, gli dai mille lire e stanno via una settimana. Vanno in giro col complesso... Quale complesso? Vanno in giro col complesso, ha messo sul complesso l'anno scorso, ho fatto il disco per estate. Quest'anno ho fatto il disco per l'estate, e poi ho fatto il cartagiro, e loro lo dicono... E questo cartagiro lo conosco proprio. Insomma, guardi... Diegami dove puoi andare a trovare loro. Loro vanno giù e di qua, vanno in giro e va giù di fuoco. Dove vai giù di là? Quando lei vede che lì c'è una piccola cosa, lei gli va lì e gli fa, e gli dice... Dopo gli si va giù... Oh, stupido! Non dire a me queste cose per piacere, non farli arrabbiare! Che già sono preoccupato per una cosa che ho avuto prima. Ammetto davvero sbagliato. Allora vai avanti, dove devi andare poi? Dopo va giù e lì si troverà una persona che gli dice... Perché non si ferma un po' a riposarsi? Dove guardi? Dove guardi? Dove guardi tu?